In questa unione tra ricerca di base e tecnologia siamo anche naturalmente portati ad avvalerci delle competenze del territorio, quindi questo progetto si avvale di due aspetti che sono bidirezionali, da una parte è un trasferimento in qualche maniera, è un'alta formazione nei confronti di diplomati e laureati che vengono a lavorare nelle nostre attività di ricerca appoggiandosi anche ad altre università in tutto il mondo o a attività industriali, ma in qualche maniera è anche di nostro interesse, nel senso che non lo consideriamo solo un trasferimento unidirezionale tra le nostre competenze e il territorio, ma vogliamo avvalerci in maniera più profonda delle competenze del territorio e semmai svilupparne altre. Nell'ambito di questo progetto, anche nella precedente edizione, ha avuto particolare successo questa attività che chiamiamo e-learning. E-learning è un modo innovativo in cui noi ci interlacciamo con le piccole e medie imprese del territorio fornendo dei corsi che nascono dalla nostra esperienza ma sono di interesse generale per le industrie. I corsi quest'anno in questo progetto sono di diverso tipo, uno si chiama l'utilizzo del sistema SCADA che è un sistema ben noto in ambito industriale per i controlli di processo e applicato al controllo del territorio. Un altro è l'uso delle macchine stealing che noi utilizziamo nei nostri apparati per scopi puramente criogenici applicati nel corso invece per tecnologie innovative nell'ambito dell'energia alternativa. Poi abbiamo un corso di tutor che in qualche maniera serve a formare proprio le persone che partecipano e che collaborano alla costruzione di questo e-learning e poi un altro anche molto importante che è di uso estremamente grande, quello dell'affidabilità dei servizi informatici. Questi corsi vengono affidati tutti a persone ovviamente di grande esperienza, per far questo ci avvaliamo anche della collaborazione col GAR e ripeto si sviluppano secondo modalità tutte informatiche in cui gli allievi sono messi con tutte le tecnologie più innovative in contatto con i maestri e seguiti anche dai tutor. Ecco perché quindi all'interno di questi corsi c'è anche un corso nel corso che è proprio quello del e-tutoring.